iscriviti al canale consigliami cosa mangiare a pranzo riso in bianco a parte che ho notato che riso costa un casino ma da quant'è che ha aumentato così tanto il riso c'è quasi parla del prezzo del gas ma del prezzo del riso non parla nessuno siamo impazziti c'è più richiesto da quando hai fatto spopolare l'isola vudi può essere chiedo scusa perché insomma non volevo il peggio il buio lo vende una uncia come l'oro nel buio non l'ho notato hai fatto cose sorprendenti la fuori bellissimo è stato emozionante cioè io mi trattavo bene con il riso sempre trattato bene ho sempre mangiato il riso in bianco ma carina e oli perché è più buono vedete che già butta male questo è un 33 per cento e non dovevo subire guardare carta cento centocinquanta dipende un po' ecco delle nuove reclute daranno alla tua squadra un tocco di magia in più però insomma perché è di quelle carte che diciamo sono state rite ovate in passato che ci hanno messo delle carte di vecchia di una vecchissima edizione e poi trovare una volta in poco ogni tanto 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 e io l'abbiamo vuoi che siete del settore p2 già dato ha già una data inizio no sai che è un po' perché c'è un app da sviluppare ci sono un po di situazioni e quindi ancora data inizio non c'è non preoccuparti la prossima volta otto murillo con cinghiali qua livello hp per foret sperando di trovare un murillo con cinghiali la switch è effettivamente faccio il viaggio in treno la switch la devo mettere la devo portare sta notte ho visto che ti hanno donato 100 sub quando non eri live 610 qualcosa di più a riguardo guarda non vado neanche a vedere conso perché è una menzogna fa freddino vieni coperto sera notte alla tua età si sentirai grazie 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 questo era quello che volevo sapere giusto oh finalmente qualcuno che mi conosce e sa quali sono le mie esigenze beh in realtà ti ha dato molto bene credo in realtà ti ha dato molto bene credo ok hai fatto cose sorprendenti là fuori è che qua livello hp è così è così tanto in curve anche livello vendo compro carceriere infatti dopo quanto mi costa il level up cioè io il prossimo turno se io faccio livello vendo compro poi il prossimo turno per fare livello hp comunque sto storto gioco l'unice che è un cinghiale così mi attiva la quest le gemme non le sposto anzi forse le accumulo sul profeta una la tengo vedi cosa succede quando ti vesti per l'occasione queste percentuali mi piacciono già di più sono più al cento di adatti a quello che voglio fare a far morire lui e vincere il fight oh ma che carino grazie emise ma non credo sarò non lo so io dove sarò a mangiare in generale chi sarebbe barone per fare una build milano ero 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 fiero ho detto bene ero fiero ero fiero comodo l'esternità opposta rispetto a casa mia perfetto che appedoro infatti che lui c'ha già beanna con i muylock belli che ossi che palle un muylocko cinghiale dai un muylocko cinghiale qui miro fai tanti cose certo che posso prendermene cura io ecco una moneta d'oro quel servitore resterà con te fino alla fine una di quelle qua quelle due erane col barone di prima eh lo so lui non ha attivato cioè c'era questa attiva ma non l'ha ho messo di eroi perché ho detto tanto lui aveva un pezzo di rosso ma ceppa un'altra vittoria sembra che la magia sia dalla mia parte vorrei giocare dei cinghiali però questo che ci faccio ciao bollo bollo che ha compiato lui ma che tanto compio questo non devo compierla ogni tanto e anche oggi si mangia in tua compagnia no che piacere liberate la mente vostra però che rendo dorato chi chi rendo dorato lui va bene ma gli altri mi sono spiegati mi sono spiegato si potrei rendere dorato lui perché lo rendo più grosso questo è teoppo perché così non mi muoiono pezzi ma devi colpirmi i taunt i taunt juggler un'altra vittoria sembra che la magia sia dalla mia parte sei il mio mecenate che è mmmm va sa che puoi vincere ok buon fight ovviamente minghi du moillo casuale non credo che agam sia una pick forse una pick qualsiasi cinghiale devo dirvi la verità liberate la mente vostra che me ando che me ando che è un giudice sa che puoi vincere è però eata anche è pericoloso là fuori ma so che puoi cavartela questo è un bait anche questo è un bait che ci dobbiamo fare sa che puoi vincere ah ha scalato un bianché non ha fatto tutto sto scaling pensavo di più il problema è lui adesso un'altra vittoria sembra che la magia sia dalla mia parte bestie eh lui potrebbe avere qualcosa che andrebbe eliminato potrebbe prendere anche lei per questo turno contro le bestie magari c'ha però bestie 3 prendo zap forse è un'altra vittoria ipad dopo ecco il game quel servitore resterà con te fino alla fine sa che puoi vincere ok zapped lo abbiamo zappato ragazzi vabbè che è che avesse sta void ma io ho cogerati a 0 a 0 entusiasmo alle stelle solo per ste amaccioni però c'è stato dell'entusiasmo un'altra vittoria sembra che la magia sia dalla mia parte stiamo facendo di pazzesca no dai nel senso io stamattina mi sono messo in pari con i meme e cioè 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 ragazzi una cosa che è epico epicità ai massimi livelli sapete dove prendere i void un'altra vittoria prendo questo è un tag di veas ma no con quello sì sì la tua vittoria era scritta nel destino vittoria 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 lo scudo non quello si è vinto mi sa mi sa che l'abbiamo portata a casa qui dai 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 subito come back subito 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 carichi mi voglio carichi come back subito 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 Grazie a tutti.